Subisci un maltrattamento fisico o psicologico? Sei vittima di violenza o stalking? Non sei sola. 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 Chiama o contatta il 1522. Risponderemo a noi, operatrici specializzate. Ti daremo aiuto e sostegno, anche indirizzandoti ai centri antiviolenza più vicini. Siamo disponibili anche via app 24 ore su 24. Non sei sola. Non sei sola.